Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan per il canale Maledetti Dadi e oggi vi propongo la recensione di Call of Tulu, Tulu by Gaslight, gioco che mi è stato fornito dalla Chaosium Inc che ringrazio di cuore e che ci porta nei panni dell'epoca piena vittoriana nell'ambientazione di Lovecraft. Tulu by Gaslight ti trasporta nel cuore della Londra vittoriana, dove il mito Lovecraftiano incontra l'epoca di Sherlock Holmes e Jack lo Squartatore. Esplorerai un mondo dove orrore, scienze e superstizioni si scontrano. Nel buio delle strade illuminate a gas, investigatori, scienziati e cultisti si muovono tra enigmi e culti proibiti. La civilizzazione nasconde orrori cosmici pronti a divorare la mente umana. Questo GDR combina il brivido del mistero con l'orrore cosmico. Può interpretare un gentleman, un aristocratica, uno scienziato pazzo o persino un investigatore privato. Ogni partita di Tulu by Gaslight è un viaggio nella follia, dove scoprire troppo potrebbe costarti la sanità mentale. In questo gioco accendi il tuo lume e preparati a scoprire gli oscuri segreti del mondo vittoriano. Ma attenzione, poiché non tutti ne usciranno sani di mente. Tulu by Gaslight utilizza il sistema BRP, ovvero Basic Role Playing. Tira un dado d'accento per superare prove basate sull'abilità del tuo personaggio. Più è basso il valore, meglio è nel risultato. Ogni scoperta sovrannaturale mette alla prova la tua sanità mentale. Perderla ti porterà alla follia o ben peggio. In Tulu by Gaslight il vero nemico non è il mostro, ma la tua mente. Tu, fino a dove ti spingeresti per conoscere la verità? Lascia un like e un commento al video e fammi sapere cosa ne pensi. Ciao a tutti e alla prossima!